E parliamo del congresso della Will SGK dedicato alla sicurezza sul lavoro, una priorità, dicono, servono anche più ispettori negli organi di vigilanza. Nella provincia di Bolzano, al netto del calo dell'occupazione e della sospensione del lavoro dovuta alla cassa integrazione di molti lavoratori, pur lavorando meno, ci si infortuna di più. È il dato che è emerso nel corso del convegno organizzato dalla Will SGK riguardante la sicurezza sul lavoro e dal quale hanno partecipato diversi relatori, tra i quali Gabriella Galli, responsabile nazionale della sicurezza sul lavoro della Will. Partendo dalle esperienze già in essere, secondo il sindacato, si potrebbe immaginare un modo diverso di produrre sicurezza, partendo sempre dagli elementi insostituibili che rimangono la prevenzione, la formazione, l'informazione, la vigilanza e la ripressione. Dai dati che fornisce l'Inail, che sono gli unici certificati, la situazione che ne emerge è una situazione abbastanza preoccupante, ovvero in Italia gli infortuni sul lavoro sono calati dal 2008 al 2009 del 9,7%, nella nostra regione del 5,5%, nello specifico della nostra provincia del 1,7%, che significa che al netto della riduzione dell'occupazione e della collocazione di tantissimi lavoratori in cassa integrazione, significa che pur lavorando meno, in Alto Adige si infortunia di più. Sicuramente c'è la violazione delle norme perché un infortunio non accade mai per caso, non esiste la sfortuna in un infortunio sul lavoro, l'infortunio accade sempre perché c'è una causa oggettiva. Per venire fuori io credo che il sindacato faccia bene a chiedere l'aumento degli organici espettivi alla provincia di Volzano, ma questo non basta, anche perché è una richiesta che facciamo da anni e che non è mai stata ascoltata. Io credo che il ruolo degli organismi paritetici possa giocare un ruolo incisivo, ovvero rappresentanti dei lavoratori e rappresentanti dei datori di lavoro che si pongano il problema di risolvere questa tragica piaga del mondo del lavoro. Oscar Wilde diceva che la salute è il primo dovere della vita. Per la Will, ha concluso Maurizio D'Aurelio, vi deve essere la garanzia di vedere tutelata la salute e l'integrità fisica di chi lavora perché, oltre ad essere un diritto fondamentale, deve essere una priorità.